Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Assocati olivicoltori ben ritrovati al numero 34 del periodico 25 agosto 2023. Le olive hanno oramai raggiunto le dimensioni finali e continua l'attività di inolizione. In alcuni oliveti abbiamo anche riscontrato dei primi segnali di invaiatura. Con molta probabilità sono gli effetti dei picchi di alte temperature che abbiamo avuto in questa settimana. Mosca delle olive. Iniziano le preoccupazioni. Perché abbiamo riscontrato negli oliveti, dove ci sono avute le prime azioni di contrasto durante la prima settimana di agosto, delle notevoli attività di infestazione. Perciò è consigliabile che entro la fine di questa settimana o gli inizi della prossima attuare un intervento fitosanitario con insetticidi, adulticidi e ovicidi. Quindi l'acetamiprid, l'epic, SL oppure il kestrel, oppure andando a utilizzare il silvanto prime, oppure ancora andare a usufruire di attrattivi alimentari come l'exirelbite. Per le attività di difesa da agricoltura biologica, è bene considerato che alla fine di questa settimana, primi della prossima, sono provviste delle piogge, andare a verificare, nel caso si siano utilizzati degli antideponenti con polveri di roccia, la copertura, perché con bagnature superiori ai 10-12 mm si ha il dilavamento dei prodotti, che vanno ripristinati, e lo stesso anche se si usano le spinosine come attrattivi alimentari. Come nota, per chi utilizza attività di contrasto da agricoltura biologica, ma anche per altri olivicoltori, segnaliamo che l'utilizzo di gabasite più propoli sta dando buoni risultati sul contenimento delle popolazioni di mosca delle olive. Un'altra preoccupazione che abbiamo in quest'annata è la presenza di margaronia. Il quarto stadio delle larve, prima di diventare adulte, si stanno portando verso le olive, e in questo caso qui vanno a rodere la polpa, creando dei danni. Abbiamo visto che dove ci sono le rosure, si insediano anche una notevole quantità di popolazione di funghi e di batteri, creando una marcessenza delle olive stesse. Occhio di pavone. Da considerare che alla fine di questa settimana, inizio della prossima, sono previste le piogge, perciò avremo una diminuzione delle temperature e aumento dell'umidità. Tutto questo sicuramente andrà a portare un aumento delle infezioni. Perciò chi ha la possibilità esegui un trattamento fitosanitario con prodotti rameici. E' considerato che, con molta probabilità, ma confidiamo di no, possano avvenire anche delle precipitazioni con un'unita della grandine, eseguire nelle immediate successive 36 o 48 ore, un intervento di disinfezione con prodotti rameici. E adesso, su richiesta dei nostri associati su come avviene l'inolizione all'interno delle olive, andiamo ad approfondire l'argomento mediante la lavagna. La formazione dei grassi all'interno delle olive è un'azione complessa. Viene definita l'ipogenesi e il periodo in cui si attua viene chiamato inolizione. Inizia dal momento dell'indurimento del nocciolo, perciò siamo verso la fine di luglio, procede in maniera lenta per tutto il mese di agosto, per poi accelerare nel mese di settembre e andare a raggiungere il massimo quando siamo ai primi di ottobre. Raggiunto il massimo, si mantiene sino a che l'uliva non viene raccolta, salvo diminuire leggermente nel momento in cui l'uliva va a cadere per sovramaturazione nel caso non sia avvenuta la raccolta della stessa. È un sistema, come abbiamo detto, molto complesso e inizia all'interno delle olive in via di maturazione partendo da un prodotto particolare che è lo zucchero che si è depositato all'interno delle cellule polpa. Questo zucchero, per mezzo di enzimi, viene scisso in composti molto più semplici e da questa scissione si va a creare un'attività enzimatica che va a crearmi l'acetil coenzima A. Anche questo va a crearmi il primo stadio di formazione dei miei grassi e si trasforma a sua volta in malionil coenzima A. Processi che sono molto complessi e addirittura non si conosce ancora bene il meccanismo in cui si attuano. Ancora attività enzimatiche e in questo caso entrano in gioco altri due tipi di enzimi che vanno a crearmi attraverso delle proteine trasportatrici vanno ad allungarmi quello che sarà il mio composto chimico che mi formano le lunghe catene di carbonio per formarmi gli acidi grassi. Alla fine noi abbiamo la presenza di un grasso particolare che è l'acido palmitico. Non è finita perché questo acido palmitico viene ancora allungato con altre catene di carbonio per formarmi altri acidi grassi particolarmente il mio acido oleico e a seguire avremo anche l'acido linoleico l'acido lino lenico e tutti gli altri acidi grassi che mi comporranno il mio olio. Non abbiamo ancora concluso perché una volta che ci sono formati questi acidi grassi questi devono diventare dopo dei trigliceridi o magari in misura minore dei digliceridi proprio per andare a crearmi il mio olio. Allora all'interno della mia oliva viene sintetizzato un alcol un alcol particolare che è il glicerolo perché i trigliceridi non sono altro che l'unione di un alcol più un acido grasso. Formato anche il glicerolo all'interno della mia cellula abbiamo una compattazione fra questo glicerolo fra questo alcol e gli acidi grassi. Ecco che abbiamo concluso e siamo andati a formarmi i nostri trigliceridi o lipidi o grassi. Quello che maggiormente influenza tutta questa attività di formazione del mio olio naturalmente vi è la genetica dell'albero d'olivo ma vi è anche il clima perché influenza notevolmente sulla formazione del mio olio. vi è naturalmente la potatura e la concimazione in maniera indiretta. Perché in maniera indiretta? Perché naturalmente questi vanno a crearmi le condizioni affinché all'interno della mia oliva ci sia la presenza di nutrienti essenziali per andare a svilupparmi il mio olio cioè gli amidi gli zuccheri perciò una tentatività di concimazione va a crearmi queste sostanze una tentatività di potatura va a crearmi le condizioni necessarie affinché la luce entri bene all'interno della mia chioma faccia lavorare le foglie per sintetizzare gli zuccheri tramite la sintesi colorofiliana ma anche faccia lavorare bene quella colorofila che è presente nella mia oliva l'unione di tutti questi componenti va a dare la possibilità alla mia pianta dell'olivo di produrre olio di buona qualità e adesso nel ringraziarvi per l'ascolto un buon a risentirci alla settimana prossima campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia l'anima 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 Grazie a tutti.